Buonasera, bentrovati con la nostra informazione che apriamo con la cronaca. Parliamo di minacce, insulti e botte. È il trattamento riservato da una 35enne di Cassano Magnago. Pensate alla propria mamma di 56. L'uomo denunciato dalla stessa madre avrebbe reso la vita impossibile alla donna, suo convivente, che scrivono in una nota ai militari dell'arma. Ma per oltre due anni si è vista sottoposta a reiterate vessazioni, minacce percosse dal figlio, che voleva obbligarla a vendere la casa per intascarne il ricavato. E che non contento avrebbe anche cercato di estorcerle 70 mila euro. L'uomo si ritrova ora nel carcere di Busto Arsizio. E a proposito di donne vittime di violenza, da oltre 25 anni EOS le assiste. 145 quelle attualmente prese in carico. Vediamo. Sono 145 le donne attualmente assistite da EOS. Realtà Varesina in campo da un quarto di secolo contro una piaga che non accenna a rimarginarsi. Il nostro centro antiviolenza è stato il primo centro antiviolenza di Varese e della provincia di Varese. E quest'anno compie 25 anni. 75 vittime si sono rivolte a EOS nei primi sei mesi dell'anno, a ulteriore dimostrazione di quanto la realtà spaventi, anche qui a Varese. Noi vorremmo aiutare le donne che subiscono violenza creando loro un ambiente nel quale viga una relazione tra donne e cercando in tutti i modi di aiutarle a recuperare una loro autonomia attraverso uno sportello lavoro, perciò per una ricerca attiva del lavoro, attraverso dei gruppi di auto-mutuaiuto, attraverso degli incontri di arte-terapia. Ritenendo che il problema della violenza di genere sia prevalentemente un problema culturale, riteniamo fondamentale anche, oltre alla parte di centro antiviolenza di ascolto, riteniamo fondamentale un lavoro di formazione e sensibilizzazione, sia all'interno delle scuole che all'interno dei luoghi di lavoro. Voltiamo pagina, parliamo di economia, perché il sogno condiviso delle realtà economiche varesine, lariane e ticinesi è cancellare la frontiera. Incontro e confronto tra realtà economiche di Varese, Como e Canton Ticino, in cabina regia, il Rotary Club. Introdotti dal presidente Roberto Torriani e dal giornalista Antonio Franzi, i vertici delle Camere di Commercio e degli industriali hanno gettato le basi della Città dei Laghi, grande area omogenea che varchi i confini per valorizzare un territorio vasto, oltre 2 milioni di abitanti, e produttivo, 70 miliardi di PIL e oltre 200 mila imprese. Scenario senz'altro suggestivo, ben descritto anche sul piano estetico e paesaggistico dall'ingegnere Alberto Mazzucchelli. Ma oltre ad essere auspicabile, è anche realizzabile e qui le posizioni si fanno articolate. Finché il divario retributivo tra Italia e Svizzera sarà così marcato, dicono alcuni, la meta resterà lontana. Abbiamo sicuramente due sistemi paesi completamente differenti, con delle regole completamente diverse, con una burocrazia italiana che è molto più complessa rispetto a quella a Svizzera, il problema dei salari. Se sono quasi 80 mila le persone che ogni giorno si spostano, è una città delle dimensioni quasi di Como, che interamente, compresi i neonati, si muove. Lasciamo perdere i problemi logistici dell'andare e venire, ma è un trend che non riusciamo a invertire e abbiamo bisogno di invertire. Fine della discussione quindi? No, perché la costruzione di una volontà comune è già un inizio significativo, che per irrobustirsi ha bisogno della politica. Perché è anche vero che la Svizzera paga meglio i lavoratori, ma è anche vero che su altri aspetti sicuramente deve per forza essere assistita da noi, sotto tanti aspetti, sia sociali che economici e anche culturali, mi viene da dire. Dipendesse da lei, da cosa inizierebbe? Guardi, io toglierei subito la frontiera, farei un'area, farei una bellissima area, una regione incredibile, nascerebbe qualcosa di veramente straordinario dal punto di vista competenze, capacità lavorative, aziende, benessere. Forse quel che si è discusso grazie a Rotary rientra nel campo dell'utopia, ma il punto è proprio questo. Per dirla con Oscar Wilde, il progresso è la realizzazione dell'utopia. E sempre da alluvinate ospite dei Rotary, il governatore Fontana ribadisce, con l'autonomia ci sarebbero stipendi più alti per medici e infermieri. Ascoltiamolo. Ospite della serata che i Rotary hanno dedicato alle sinergie tra Varesotto, Comasco e Cantonticino, il governatore Attilio Fontana ribadisce l'urgenza dell'autonomia. La Svizzera, grazie ai suoi stipendi ben più generosi, drena oltre la metà del personale medico formato qui in Italia, dice se il regionalismo differenziato diventasse realtà, potremmo gestire le nostre risorse senza i vincoli imposti dallo Stato centrale. Tradotto, pagheremo di più medici e infermieri lombardi. Perché noi formiamo medici valenti, infermieri valenti, formiamo professionisti di varia natura che dopo essere stati formati in Italia vanno a lavorare in Svizzera. Su questo è chiaro che bisogna intervenire. Noi, almeno per l'ambito sanitario, stiamo parlando con il governo ormai da qualche settimana per cercare di trovare delle soluzioni. Se avessimo l'autonomia avremmo una capacità maggiore di decidere, per esempio, gli stipendi dei nostri medici e dei nostri infermieri, avremmo la possibilità di gratificare certe zone che sono particolarmente difficili, come le zone interne delle montagne, le zone abbandonate dalla pianura, per fare in modo che anche lì ci possa essere qualcosa che attira i professionisti sanitari a svolgere la loro attività. Speriamo che si possa andare in questa direzione. E a proposito di salute, ieri sera in un infuocato Consiglio Comunale a Buster Sizz è stato approvato l'accordo di programma. Con i voti favorevoli della maggioranza guidata dal sindaco Emanuele Antonelli, quelli del gruppo misto e dell'ex primo cittadino Gigi Farioli, l'astensione del Partito Democratico e il parere contrario del civico Santo Cascio, in una seduta consigliare contrassegnata da tensione e qualche decina di manifestanti in aula, tanto da essere sospesa dalla presidente dell'assise civica, Laura Rogora, in Consiglio Comunale a Buster Sizz è stato approvato l'accordo di programma per l'ospedale unico al confine con Gallarate. Città nella quale, in contemporanea, pure è passato il nuovo nosocomio, anche qui oggetto comunque di contestazioni. E rimaniamo in tema perché con otto contrari all'opposizione, l'astensione di più Gallarate e una maggioranza compatta, il Consiglio Comunale di ieri sera ha votato favorevolmente all'accordo di programma che verrà firmato, come annunciato il 15 ottobre, in Regione Lombardia e che darà il via, appunto, allo step successivo per la realizzazione dell'ospedale unico. Dibattito infuocato tra le parti politiche, incentrato principalmente sulle criticità della locazione del nuovo nosocomio a Beata Giuliana, appunto, in quella di Buster Sizio, come diceva il servizio precedente. Un dibattito acceso anche dalle polemiche in sala di alcuni manifestanti appartenenti a diversi comitati con cartelli di denuncia presenti le forze dell'ordine. E in tema di salute, l'8 di ottobre in piazza Montegrappa a Varese, il Villaggio della Salute. Oggi siamo qua a presentare un'iniziativa che si chiama Villaggio Salute, che è realizzata da Croce Rossa, con Federfarma, con ASST Settelaghi, col patrocino del comune ed un'iniziativa per il bene comune, in questo caso per la diagnosi precoce e la prevenzione di malattie cardiovascolari e metaboliche. E quando c'è un obiettivo di bene comune, io e Luigi siamo sempre insieme. Appuntamento domenico, 8 ottobre, in piazza Montegrappa. Noi come Federfarma abbiamo sempre dato una disponibilità sociale verso il pubblico, tant'è vero che ogni inchiesta statistica fa uscire le farmacie come la prima entità nel campo sanitario più vicina e più gradita dalla gente, quindi noi lo facciamo per il bene della gente. Tradotto, nell'assetto politico Bonoldi e Zocchi restano su due fronti opposti, ma quando si tratta di salute le distanze si annullano. E torniamo a Busto Arsizio, perché dopo il nostro servizio di ieri sera, in cui raccoglievamo le preoccupazioni di alcuni cittadini per la situazione in cui versa il sottopasso di via Tasso, il comune ha contattato le ferrovie chiedendo immediati controlli. Il controllo dei sottopassi di via Tasso e via 20 Settembre spetta alle ferrovie. Data la segnalazione dell'infiltrazione, abbiamo subito chiesto loro di fare le verifiche del caso, siamo in attesa di risposta. Il giorno dopo la richiesta di accertamenti, giunta la nostra redazione, per lo stato definito preoccupante in cui versano le vecchie strutture sotto cui ogni giorno passano migliaia di auto a Busto Arsizio, il sindaco Emanuele Antonelli spiega di essersi attivato immediatamente per scongiurare qualsiasi rischio di crollo, senza che dunque sia necessario arrivare a un esposto per capire a chi spetti la manutenzione. Intanto a gallarate, comune e commercianti stringono alleanza contro degrado e problemi di sicurezza, in particolare nel servizio di Valentina Bigai. Siamo riusciti a tenere un incontro molto interessante alla quale c'erano presenti il sindaco Cassani, la mia figura, c'erano l'associazione di commercianti, il Naga e anche i referenti della zona del centro di gallarate. L'idea era quella di fare una grossa sintonia fra il commercio e la sicurezza in generale. E' intervinto anche il nuovo sessore da Ligna. Si è deciso anche di preparare e mettere in piedi una chat dove tempestivamente si possono affrontare i problemi che riguardano la sicurezza in generale. Il fatto di aver messo in piedi questa riunione e di conseguenza questa chat ci aiuterà a monitorare il più velocemente possibile la zona di gallarate. Intanto a Bustarsizio, stretta del comune sui tavolini, più controlli per ordine e decoro. Questo è il risultato del vertice di stamattina a Palazzo Girardoni. Possibili anche ordinanze restrittive. Voltiamo pagina per parlare di specialisti e volontari a Varese per sostenere le nuove sfide della Fondazione Ascoli. Comincia il secondo tempo di una partita che punta a salvezza e futuro. Parole di Fondazione Giacomo Ascoli, nemico giurato delle malattie onco-ematologiche che colpiscono bambini e ragazzi, combattute quotidianamente sul fronte medico, al quinto piano dell'ospedale del Ponte, ma anche su quello della ricerca e sociale, complice la squadra di volontari che la Fondazione è riuscita a mettere in campo. Oggi possiamo dire che siamo in grado di curare ai massimi livelli di eccellenza le patologie onco-ematologiche a Varese. E poi? Poi ci sono le prossime sfide. Il secondo tempo inizia nel 2024 e avremo la palazzina e il faro e le camere sterili in abbinamento fra loro, perché le camere serviranno a ospitare i bambini e le famiglie le ospiteremo al faro. Motivo di orgoglio per i vertici di SST Sette Laghi che vende dalla fondazione la quintessenza del terzo settore. Un grazie ho sentito all'avvocato Ascoli, alla sua fondazione e a tutti i volontari che sono la migliore espressione del territorio. A ottobre intanto esplode la cultura del dono. Una ventina di appuntamenti, 14 campagne benefiche e tanti altri momenti per imparare l'arte della filantropia che non ha bisogno di ricchezze materiali, ma di impegno, generosità, costanza. Tutti i dettagli sul sito di Fondazione Comunitaria del Varesotto. Il primo ottobre è la giornata internazionale delle fondazioni di erogazione, il 4 di ottobre la giornata nazionale del dono. Noi insieme a una ventina e passa di enti su territorio abbiamo organizzato, sparso per la provincia, tutta una serie di iniziative che durante il mese di ottobre accenderanno i riflettori su questa importante tematica. La nostra gente è propensa a donare, bisogna dargli delle opportunità e delle possibilità per farlo con sicurezza e tranquillità. Stamattina Busto Arsizia è stata presentata la stagione 2023-2024 di B.A. Teatro che vede oltre una cinquantina di spettacoli in otto sale, particolari nel servizio. La stagione teatrale di Busto Arsizio 2023-2024 propone una cinquantina di spettacoli in otto sale e tutto questo dopo l'emergenza sanitaria che ha messo a dura prova la sopravvivenza di diverse di queste. Sì, devo dire un'offerta assolutamente qualificata, eterogenea perché ciascuna delle otto sale mette in campo un'identità diversa, un'offerta diversa per tutti i palati, per tutte le sensibilità. Ma soprattutto la vera grande sfida vinta è il fatto di essere ancora qui dopo l'emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio molte sale e alcune delle quali hanno seriamente rischiato di non riuscire a riaprire, essere di nuovo presenti a offrire alla comunità di Busto e a tutti i cittadini che da fuori Busto vorranno venire ad assistere agli spettacoli. Questa stagione teatrale è davvero uno straordinario risultato che merita di essere premiato anche con la presenza in sala di chi magari per reticenza o per altre ragioni non ha mai varcato la soglia di un teatro. Sono certa che ci ritornerà. A Varese intanto domenica sapori e profumi invadono Biumo. Ecco perché. Ormai siamo giunti alla ventiquattresima edizione e direi che ha sempre avuto tanto, tanto successo. E un nuovo successo è già da mettere in conto per la festa dei profumi e dei sapori d'autunno che tornano a inebriare Biumo per l'intera domenica, primo ottobre con le auto americane schierate in via Dandolo, la musica, le bancarelle, le squisitezze, i laboratori per bambini, i gruppi cinofili, i cavalli e i momenti clou in piazza 26 maggio. L'associazione Green Event, che quest'anno festeggia 10 anni di attività, è sempre attenta alla qualità e alla socialità degli eventi e ha coinvolto tutte le realtà della zona e non solo, creando un programma che abbraccia ogni fascia di età e tocca ogni via di questa parte della città tanto amata e quanto bistrattata. Non mancherà la valorizzazione delle aree verdi e delle splendide dimore che più caratterizzano il cuore di Biumo. In questa occasione abbiamo cercato di valorizzare i parchi che ci sono a Biumo, il parco Perelli e il parco sospeso sopra il liceo musicale. Non mancheranno neanche le parentesi solidali, in questo caso danzanti. Ci sarà anche un'esibizione di balli standard, tra cui anche un'esibizione della nostra coppia che rappresenta il progetto Scarpette nel cuore. Una coppia, quella formata da Giovanni e Derica, che Varese, Rete 55, conosce bene e che dopo le medaglie d'oro ai campionati regionali e le due d'argento ai nazionali, promette di scalare la vetta. Adesso dovrò almeno arrivare primo. Non restano che due parole, buon divertimento. Per la cultura si apre lunedì 16 ottobre alle 14.45 al Cinema Garden a Gavirate, il nuovo anno accademico di Ugate, l'Università per adulti e anziani di Gavirate. Una tradizione iniziata nel maggio 2016 grazie a una felice intuizione del Lions Club che nel giro di pochi anni ha saputo coinvolgere centinaia di iscritti e invitare centinaia di relatori a affrontare tematiche variegate e di indubbio interesse culturale, scientifico e sociale. Ad aprire le danze, una lezione di Matteo Enzaghi, giornalista, direttore di Rete 55, come sapete, e critico cinematografico che insieme a Romano Aldrini proporrà un incontro sulla modernità di Charlie Chaplin. E ora apriamo la pagina sportiva con una notizia che purtroppo non farà piacere ai tifosi biancorossi del basket perché la pallacanestro Varese saluta la Basketball Champions League causa la sconfitta contro Cholet per 96-88. Adesso spazio alla calcio con gli impegni di Varesina, Legnano e Castellanza. Turno spezzatino per i gironi A e B di Serie D ma tutte le Varesotte giocheranno regolarmente domenica 1 ottobre per poi tornare in campo nell'infrasettimanale di mercoledì 4. Impegno sulla carta complicata per il Varese che farà visita all'attuale capolista del girone A. L'Asti, nonostante il K.O. di Chieri si è fin qui dimostrata una squadra compatta ma i biancorossi potranno sfruttare l'arma Sindritvuri e l'attaccante albanese sogna subito un ruolo da protagonista. Varesina è in visita alla casatese per le Fenici sarà un'occasione importante per testare la maturità del gruppo contro una squadra tradizionalmente ostica da affrontare in casa. Test complicati anche per Castellanzese e Legnano che affronteranno rispettivamente Folgore, Caratese e Pro Palazzolo due serie pretendenti alla vittoria finale. Nell'Hockey intanto Mastini vittoriosi su Valpellice In una 5 ice arena che torna finalmente a respirare le emozioni dell'Hockey davanti a oltre 700 persone i Mastini riprendono da dove si erano interrotti vincendo 6-1 il finale contro i Bulldogs di Valpellice non certo l'avversario più temibile per la difesa del titolo e di fatti la superiorità dei giallonieri è stata evidente Marcello Borghi inaugura lo score di serata Tilaro raddoppia con la complicità dei goli avversario e Michael Mazzacane nel secondo dritto e il cala il triste una piccola disattenzione sulla seconda sirena costa il gol della bandiera avversario ma nel terzo tempo è monologo varesino allevate in mischia ancora Borghi e Naslund al primo gol giallonero fissano il definitivo 6-1 che fa partire la festa al palaghiaccio non c'è però tempo di godersela domani sera di nuovo sul ghiaccio per la trasferta di Bressanone match che come tutti è facile solo sulla carta e con questo per questa inizia del nostro telegiornale è tutto io come sempre vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon prossimo momento di serata su Rete 55 canale 88 arrivederci